Il voto complessivo di questo articolo di Bialetti è di 9 su 10. Risulta essere il migliore di questa selezione. Un giudizio mediamente positivo per un articolo dalle prestazioni più che soddisfacenti. Si rivela essere un'ottima soluzione. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Bialetti elettrico è di 9 su 10. Questa è la nostra scelta migliore. I suoi punti di forza sono. Facile da usare. Sapore. Facile da pulire. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Risulta essere il più scontato di questa selezione. Le sue principali funzionalità sono. Stile. Facile da pulire. Sapore. Calore. Facile da usare. Comodo. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Bialetti. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.2 su 10. Risulta essere il più votato per questa categoria con 2368 valutazioni. Le sue qualità sono. Stile. Facile da pulire. Sapore. Calore. Facile da usare. Comodo. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Bialetti ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.2 su 10. Ha per il momento il miglior rapporto qualità prezzo. I suoi punti di forza sono. Facile da pulire. Facile da usare. Stile. Sapore. Ottimo rapporto qualità prezzo. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Grazie a tutti.